Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo con la seconda lezione relativa al contratto di trasporto. Oggi parleremo del contratto di trasporto marittimo per le vie navigabili interne. Secondo l'articolo 1678, il contratto di trasporto marittimo è quel contratto con il quale il vettore si obbliga a trasferire cose o persone da un luogo all'altro per via marittima. Il contratto di trasporto marittimo, oltre dal codice civile, è regolamentato anche dal codice della navigazione e dalle sue successive modificazioni e dal regolamento CE 392 del 2009, oltre che dal codice del turismo per quanto riguarda le crociere e poi vedremo il perché. Ora andiamo più nel dettaglio. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, questo può riguardare, come abbiamo detto prima nella definizione, sia i passeggeri che le merci. Può essere nazionale o internazionale, a seconda se si svolge nelle acque territoriali oppure se collega più nazioni. Parliamo appunto dell'obbligo di informazione. Come è stato già spiegato in generale, questo anche è previsto dai regolamenti dell'Unione Europea, il vettore è obbligato anche in questo caso a fornire al passeggero tutte le informazioni relative al viaggio, prima, cioè al momento della sottoscrizione del contratto e anche durante il viaggio. Cosa accade in caso di rinuncia al viaggio da parte del passeggero? Se il passeggero rinuncia al viaggio, nel caso in cui esso sia dovuto a causa di forza maggiore, quindi un grave impedimento, sicuramente il passeggero avrà diritto al rimborso del biglietto con cui verrà sottratto appunto a questo valore una penale del 25%. Vediamo invece che cosa accade nel caso di mancata partenza della nave o di ritardo della stessa. Allora innanzitutto in caso di mancata partenza, cioè di cancellazione del viaggio, il passeggero può scegliere tra un trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto. Quindi possiamo chiedere il rimborso del biglietto oppure che venga effettuato nuovamente il trasporto. Il vettore marittimo è in questi casi sicuramente obbligato ad assistere il viaggiatore, in che modo? Cioè fornendo gratuitamente pasti e bevande e anche occupandosi nel caso serva proprio dell'alloggio, cioè della sua sistemazione alberghiera. Nel caso in cui si verificano in realtà dei ritardi all'arrivo e che questi ritardi si protraggono oltre determinati limiti che sono stati stabiliti ad esempio nel contratto, il passeggero ha diritto a un risarcimento parziale del prezzo del biglietto e può agire in giudizio però per reclamare ulteriori danni. Se tuttavia la cancellazione della nave avviene per un fatto che non è imputabile al vettore, in questo caso il passeggero ha diritto solamente al rimborso del biglietto, cioè se questa mancata partenza avviene per cause che non sono imputabili appunto al vettore, come condizioni meteomarine avverse o altre situazioni non prevedibili. Molto importante inoltre la parte del contratto relativa alla responsabilità che il vettore ha nei confronti dei danni che possono essere arrecati sia alle persone che alle cose trasportate. Il vettore che in questo caso, nel caso del contratto marittimo, viene chiamato appunto armatore della nave, è sempre illimitatamente responsabile di quelli che sono i sinistri che possono colpire il viaggiatore, quindi il passeggero. Questi sinistri devono appunto verificarsi di seguito a fatti che si possono verificare sin dall'inizio dell'imbarco, se però il vettore non è responsabile nel caso in cui dimostra che questo evento avverso è avvenuto per fatti o per cause che non siano direttamente imputabili a lui. Questo lo dice appunto in particolare l'articolo 409 del codice della navigazione. Quindi aspetta sempre al vettore, cioè aspetta sempre all'armatore in caso di sinistro, di dimostrare di aver rispettato tutte le disposizioni di legge, quindi tutta la normativa in materia di sicurezza e di non aver intrapreso delle azioni pericolose per l'incolumità dei passeggeri. Inoltre tutti i vettori, quindi tutti gli armatori, sono obbligati a sottoscrivere assicurazioni, assicurazioni per coprire quelli che sono i rischi di danni ai passeggeri in caso di incidente. In questo caso il passeggero danneggiato, quindi in presenza di assicurazione, può rivolgersi alla società di assicurazione per il risarcimento del danno, perché i vettori appunto, come dicevamo, sono sempre obbligati a sottoscrivere un'assicurazione per coprire i danni appunto delle persone trasportate. Ora andiamo a vedere un caso molto particolare di contratto di trasporto. Parliamo appunto della crociera. Come sapete la crociera è un tipico viaggio, quindi un viaggio molto richiesto, in particolare da alcune categorie di persone. È proprio un caso particolare di trasporto marittimo, perché si tratta di un vero e proprio pacchetto di viaggio, perché oltre al trasporto, quindi proprio al passaggio sulla nave, sono sempre previsti tanti altri servizi. Quindi il contratto di crociera turistica è un contratto mediante il quale un soggetto, che è appunto l'organizzatore della crociera, di solito il tour operator, si obbliga a trasportare un altro soggetto, che appunto chiameremo crocerista, per un viaggio. All'interno di questo viaggio il tour operator, quindi l'organizzatore, offrirà al passeggero una serie di servizi, una serie di prestazioni. Tra questi troviamo l'alloggio all'interno della cabina, i pasti, i vari intrattenimenti, quindi si va dai balli alle attività sportive, agli spettacoli, le escursioni, eccetera. Chi organizza la crociera, di solito dicevamo, è il tour operator, potrebbe essere anche lo stesso armatore, ma potrebbe essere anche un'agenzia di viaggio, eccetera. Ed è l'organizzatore che organizza, appunto, gestisce tutto il pacchetto. Non è lui che fornisce direttamente le prestazioni, come un vero e proprio pacchetto di viaggio di cui abbiamo parlato, ma è l'organizzatore, cioè il tour operator, appunto, che acquista questi servizi da terzi fornitori, quindi potranno essere le guide turistiche, saranno gli animatori, eccetera. E proprio per questo motivo, appunto, il tour operator è lui che proprio è il responsabile di tutto ciò che accade, quindi della corretta esecuzione della crociera in quanto pacchetto turistico. Come sapete bene, il contratto di vendita del pacchetto turistico è disciplinato dal codice del turismo, che quindi diventa, anche in caso di crociera, il testo normativo di riferimento. E proprio per questo riusciamo a capire che l'organizzatore, quindi il tour operator, l'agenzia di viaggi, diventa l'unico responsabile nei confronti del cliente, quindi del passeggero, del crocerista, di qualsiasi tipo di inadempimento, proprio come abbiamo visto per il pacchetto turistico. In adempimento riguardo gli obblighi che derivano dal contratto di crociera. E questo deriva proprio dall'articolo 43 del codice del turismo, che disciplina la responsabilità e i reclami nell'ambito della vendita del pacchetto turistico. Quindi, in sintesi, la crociera viene considerata come un vero e proprio pacchetto turistico, viene disciplinata dal codice del turismo, tra cui discente è anche la responsabilità per qualsiasi tipo di inadempimento da parte del tour operator o da parte di chi organizza la crociera. Fatto salvo che poi il tour operator stesso, in caso di riclamo o di risarcimento, potrà rivalersi nei confronti dei terzi che non hanno effettuato i corretti adempimenti. Quindi, per quanto riguarda il contratto di trasporto marittimo, quindi o per via navigabile interna, ci fermiamo qui. Per il prossimo appuntamento parleremo del contratto di trasporto ferroviario. Ciao a tutti, alla prossima!